Dobbiamo necessariamente, non opposizione e maggioranza, ma tutti quanti insieme, senza assolutamente alcuna distinzione, intervenire. Quindi io dico, nelle more, o meglio ancora, subito far intervenire il questore, subito sollecitare il prefetto, subito capire come impedire a questa gente di commettere ulteriori episodi violenti a ballo, subito fare un tavolo a di nuovo anche con le forze dell'ordine e anche con i commercianti, perché si potrebbe fare questa cosa, e cioè far controllare il territorio non soltanto dalle forze dell'ordine, ma dobbiamo necessariamente affidare il servizio anche di una città esterna, che possa insieme a loro, in maniera complementare, svolgere questo servizio che garantisce la sicurezza a tutti quanti i cittadini. La spesa va assolutamente con partecipata tra i commercianti e tra il comune.